A-A-A, nel nostro caso non è il classico annuncio che potete leggere sui giornali, ma è l'addizione precisa, specifica, con cui i medici e specialisti abbreviano l'aneurisma della orta addominale, che poi è l'argomento che tratteremo in questa nuova puntata di Medicina Facil. Un buongiorno a tutti i nostri telespettatori e bentornata nei nostri studi alla dottoressa Mirta Dorazio, che ci dirà tutto ovviamente sull'aneurisma della orta addominale. Buongiorno dottoressa. Buongiorno dottor Castignani, la ringrazio per l'invito, è sempre un piacere partecipare alle sue trasmissioni. Mi fa piacere soprattutto affrontare un argomento così importante, che è l'aneurisma della orta addominale, che è un argomento forse poco noto, poco conosciuto dal punto di vista. E' anche abbastanza trascurato, forse talvolta. Abbastanza trascurato perché fondamentalmente è una patologia che non dà molti sintomi, però ha un elevato tasso di mortalità, adesso vedremo perché. Dottoressa Mirta Dorazio, responsabile chirurgia vascolare della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Intanto le chiedo subito, quando si parla di aneurisma della orta addominale e con quali rischi per la nostra salute? Gli aneurismi non riguardano soltanto la orta addominale, ma normalmente sono dilatazioni di un tratto di arteria. Esistono anche gli aneurismi venosi, ma sono meno importanti, meno pericolosi. In questo caso parliamo di una dilatazione della orta. La orta, come potete vedere in questa diapositiva, è l'arteria principale che origina dal cuore e si estende per tutto il corpo. Dalla orta originano i vasi arteriosi che vanno in tutti i distretti, in tutti gli organi. A partire dal fegato, dallo stomaco, ci sono arterie che vanno alle gambe. In basso vedete le due arterie iliache che poi vascolarizzano entrambi le gambe. A sinistra vedete una orta normale da cui emergono tutti i vasi. Le due arterie che emergono lateralmente sono le arterie renali, per esempio. E sulla destra vedete invece una orta dilatata. Se possiamo andare avanti c'è un breve filmato, un breve video, in cui vediamo proprio quello che succede alla orta. Perché la orta si dilata? La orta, come tutte le arterie, ha una parete elastica. Però l'elasticità nel tempo viene un pochino persa. È come se noi avessimo un tubo di gomma, per esempio, dove andiamo a spingere l'acqua con una pressione molto elevata e pian piano l'elasticità del tubo si perde e di conseguenza si dilata. Nel caso della orta, la parete è una parete, come abbiamo detto, elastica, formata da vari strati. Quando questi strati cominciano a sfaldarsi per varie problematiche che poi descriviamo, abbiamo questa dilatazione. La dilatazione ovviamente è favorita ulteriormente dall'aumento della pressione arteriosa. Infatti l'ipertensione è uno dei fattori di rischio per la formazione di un aneurisma della orta. Abbiamo un'ultima diapositiva che abbiamo preparato ed è quella più semplice possibile perché è proprio la definizione. Eccola qua di quello che ci ha appena detto la dottoressa Dorazzo. Questa è la definizione a livello mondiale, cioè quello che cos'è un aneurisma. È una dilatazione permanente localizzata di un'arteria con un aumento del diametro di oltre il 50%. Cosa vuol dire? Che per esempio una orta addominale di un maschio normalmente raggiunge un calibro massimo di 2 cm. Se il diametro di questa orta raggiunge 3,5 cm a quel punto parliamo di aneurisma perché ha superato il 50% del diametro normale. Nella donna invece in cui una orta raggiunge mediamente un centimetro e mezzo di diametro si parla di aneurisma già quando arriva fino a 2,5 cm. Quanto è grave, pericoloso, può essere anche mortale dottoressa? Purtroppo il problema è proprio questo perché l'aneurisma molto spesso è mortale perché il rischio maggiore di un aneurisma della orta è quello della rottura. Se si rompe un aneurisma della orta si fa difficoltà anche ad arrivare in pronto soccorso perché essendola un'arteria così grande si determina un'emorragia imponente e di conseguenza la morte è quasi immediata. Addirittura è anche una patologia frequente. Negli Stati Uniti ci sono 200.000 casi ogni anno diagnosticati, in Italia arriviamo a 23.000 casi ogni anno e addirittura a livello, diciamo sempre negli Stati Uniti ovviamente, si hanno 15.000 morti l'anno proprio per rottura dell'aneurisma della orta. È una patologia, come vedete, che interessa fondamentalmente gli uomini sopra 65 anni ma anche le donne non ne sono escluse. Altra diapositiva che avevamo preparato sempre per quanto riguarda la pericolosità dell'aneurisma, eccola qua. Sì, a livello mondiale il 5,9% dei maschi bianchi hanno un aneurisma, cioè hanno una orta che supera i 3 cm di diametro. Soprattutto un valore molto importante è quello della mortalità. Come l'avevo detto prima in anticipo, se un aneurisma si rompe la mortalità raggiunge addirittura l'80% ed è una morte rapida perché l'emorragia è veramente massiva. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo assolutamente puntare sullo screening, sulla diagnosi, perché non possiamo arrivare alla rottura dell'aneurisma ma dobbiamo intervenire prima. Infatti, se vogliamo guardare le diapositive successive, vediamo che ci sono degli, diciamo, intanto la prevalenza dell'aneurisma della orta addominale è una prevalenza molto alta perché all'inizio ho detto che riguardano un pochino tutte le arterie, però l'aneurisma della orta addominale è quello più frequente e raggiunge il 78% di tutti gli aneurismi. Poi ci sono anche aneurismi toracici, sottorenali, toroco-addominali che per fortuna sono meno frequenti rispetto a quelli della orta addominale, anche perché per esempio gli aneurismi toracici sono quelli ancora a maggior rischio di rottura e sono quelli che riguardano tutta la orta a partire dal cuore fino ad arrivare ai reni, per esempio. Dicevamo prima l'importanza dello screening, l'importanza della diagnosi. Come si fa ad avere diagnosi di aneurisma della orta addominale? Magari ci arriviamo, ci arriviamo un attimo con calma, con quella diapositiva abbiamo visto in quali tratti della orta intanto si forma più frequentemente questa dilatazione. Le chiedo qual è l'identikit dei soggetti a rischio, dottoressa? Come per tutte le malattie aterosclerotiche, per tutte le malattie vascolari in genere, il soggetto a rischio è il soggetto fumatore, in primis. Purtroppo torna sempre questo problema che non si ricorda mai abbastanza. Infatti vedete che il tabagismo è il primo fattore di rischio. In questo caso è fondamentale anche una familiarità perché i discendenti di un paziente morto per aneurisma devono assolutamente eseguire delle indagini perché soprattutto nei figli maschi questa patologia è ereditaria, si può presentare. Ovviamente l'età, la dislipidemia, l'ipertensione arteriosa, le malattie respiratorie. Il diabete per esempio influisce in questo caso in misura minore rispetto a tutto il resto. Però ci tengo a evidenziare il ruolo del tabagismo che è il fattore di rischio maggiore. Una persona che ha un aneurisma della orta addominale avverte del dolore, avverte altri sintomi. Quali sono i campanelli d'allarme? I campanelli d'allarme sono pochi, come dicevamo all'inizio, però esiste qualche sintomo specifico. Parlando di un aneurisma non rotto, cioè un aneurisma che è ancora in fase di aumento, i sintomi riguardano fondamentalmente il dolore perché ci possono essere sintomi da compressione. Anatomicamente la orta si trova appoggiata alla colonna vertebrale, per cui quando la orta si dilata può comprimere i nervi che diciamo emergono dalla colonna vertebrale e può dare dei dolori come proprio delle vere proprio lombosciatalgie, cioè un dolore che si può confondere con un dolore lombare neuropatico per esempio. A volte l'aneurisma si espande... È forte questo dolore, dottoressa? Non solo dolori molto forti, il dolore forte c'è solo in un caso ben specifico, cioè nel caso di rottura. Quando l'aneurisma si rompe è un dolore incoercibile, noi lo definiamo un dolore che non passa con nessun tipo di analgesico o di antidolorifico. Infatti quando i pazienti arrivano in pronto soccorso con un dolore lombare o anche addominale la seconda ti doveva comprimere maggiormente l'aneurisma, noi anche somministrando morfina, farmaci antidolorifici molto potenti, non riusciamo a far passare il dolore al paziente e quello ci dà il sospetto che l'aneurisma sia rotto. Per cui i sintomi in realtà ci sono, più che sintomi direi che a volte è importante anche un esame obiettivo perché nei pazienti che sono magri o normotipi, che non sono particolarmente obesi, anche o semplicemente una palpazione dell'addome ci fa sentire questa malsa pulsante, sentiamo proprio questa bomba dentro la pancia. Una mano esperta naturalmente, una mano esperta dello specialista. Senta, quando la dilatazione dell'arteria diventa rischiosa e in caso di rottura che cosa succede? Il rischio di rottura dell'aneurisma della orta è direttamente proporzionale al diametro cioè, vediamo bene in questa diapositiva, maggiore è il diametro della orta e ovviamente maggiore il rischio di rottura. Una cosa molto importante è anche il tempo di espansione, cioè in quanto tempo questo diametro aumenta. Infatti è utile fare dei frequenti controlli, anche annuali. Se noi per esempio abbiamo una dilatazione di 4 cm, è importante nei primi 6 mesi rifare un controllo successivo per vedere se questa dilatazione è una dilatazione che non tende ad aumentare oppure se tende ad aumentare molto velocemente. Per cui c'è una correlazione strettissima tra il diametro della orta e l'aumento nel tempo con il rischio di rottura. Ovviamente in un aneurisma che ha una dilatazione maggiore di 6 cm l'intervento è improcrastinabile, cioè assolutamente necessario farlo. Urgente e immediato. Urgente e immediato. Se si rompe non vuol dire che poi si arriva a morte certa, comunque si può andare in ospedale in pronto soccorso sperando di avere un ospedale vicinissimo e si fanno interventi. È una patologia a tempo dipendente anche questa? Sì, devo dire sì, alla stregua di un infarto del miocardio, più o meno la stessa cosa. Se si arriva in pronto soccorso e si è ancora vivo, si viene sottoposta all'intervento chirurgico oppure endovascolare a seconda delle condizioni. Altra diapositiva, eccola. Sì, in questa altra diapositiva appunto il diametro predice la rottura. Come dicevamo, addirittura quando c'è un diametro che va tra i 7 e gli 8 cm, a 4 anni il rischio di rottura è del 96%, praticamente è quasi il 100% di rischio. Proprio per quello le dicevo che appena ci si accorge che di avere un aneurisma maggiore di 6-7 cm è fondamentale eseguire l'intervento chirurgico il prima possibile. Senta, come ci si accorge di avere un aneurisma della orta addominale? È vero che molto spesso uno se ne accorge in maniera casuale, accidentale, facendo magari degli altri esami, degli altri accertamenti. Questa è proprio la tipicità di questa patologia. Il riscontro è quasi sempre occasionale, a meno che non abbiamo quei sintomi di cui abbiamo parlato prima. Però ci tengo anche a dire che i sintomi si presentano quando l'aneurisma è molto grande, cioè non si presentano con un aneurisma di 4 cm normalmente. Proprio per questo il riscontro è occasionale. Nel maschio, per esempio, succede spesso che dopo i 60 anni si faccia un esame, un ecoaddome, o per uno screening del colon, oppure per uno screening della prostata. E molto spesso il maschio si accorge di avere un aneurisma dove aver fatto un esame per la prostata, che è un esame che anche questo si fa più o meno dopo i 60-65 anni. Come abbiamo detto, esiste un esame obiettivo, ma solo quando il paziente è magro e si riesce a palpare bene la orta. Poi invece, per quanto riguarda la diagnostica strumentale, si può riscontrare anche con una radiografia dell'addome o con una radiografia del torace in cui non riusciva a vedere qualche calcificazione della parete aortica, che ci fa sospettare un aneurisma. Però è evidenziato il fatto che molte volte il riscontro è incidentale tramite esami eseguiti per altri motivi. Abbiamo detto che un semplice esame obiettivo ad una mano esperta potrebbe bastare, nel senso che non basta mai un esame obiettivo, perché noi possiamo solo sospettarlo, ma abbiamo bisogno poi di un conforto diagnostico strumentale. Quindi un'ecografia, un'attacca, una risonanza magnetica. E' il classico ecocolordoppler che non si nega mai a nessuno. Infatti l'esame per eccellenza che noi consigliamo prima di andare oltre, cioè prima di eseguire esami di secondo livello, è l'ecocolordoppler. In questa diapositiva vediamo l'immagine di un aneurisma della orta addominale con ecocolordoppler. Vedete questi colori molto evidenti, ci dimostrano la turbolenza di flusso, cioè quando abbiamo variabilità di colore vuol dire che all'interno della orta c'è una turbolenza importante di flusso. C'è una situazione normale e una situazione malata? No, a sinistra abbiamo una orta vista in longitudinale e a destra invece l'abbiamo vista in trasversale. L'immagine di destra è fondamentale per la misurazione del diametro, perché noi su quell'immagine andiamo a misurare l'esatto diametro dell'aneurisma della orta. Ed è anche importante la sede, perché con l'ecografia ci rendiamo conto se è un aneurisma localizzato solo a livello addominale, cioè sotto le arterie renali, oppure se si estende anche alle arterie liache, che sono poi due vasi principali che portano il sangue agli arti inferiori. Altra diapositiva, eccola. Questa è un'altra diapositiva molto bella ed è un'immagine angiotac. Noi abbiamo la possibilità di fare delle ricostruzioni tridimensionali dell'aneurisma della orta, di tutti gli apparati in generale, in questo caso ci riferiamo alla orta, e vediamo l'esatta collocazione della dilatazione aortica al di sotto delle due arterie renali, dei due reni. Vediamo quelle anche, quelle immaginette bianche. Un palloncino praticamente. Sì, è proprio un palloncino che si gonfia. Poi ovviamente le forme degli aneurismi sono molteplici, può essere acclissidra, può essere fusiforme, può essere solo proprio a palloncino, come ha detto lei. Diciamo, questa immagine per esempio ci mostra anche quante calcificazioni sono presenti nella parete della orta, e le calcificazioni sono uno dei fattori che determina proprio la formazione dell'aneurisma. Un altro esame successivo, che possiamo vedere probabilmente nella prossima diapositiva, eccola qui, è l'angiografia. L'angiografia in realtà anche in questo caso si fa come esame diagnostico successivo ed è un esame che a noi serve eventualmente per decidere la tipologia di intervento chirurgico da fare, che sia esso open oppure endovascolare. Questi sono esami di secondo livello che ci servono per un approfondimento maggiore. In realtà già con l'ecografia possiamo avere un quadro chiaro, un'idea. Ultima diapositiva, anzi è un video, questo che abbiamo preparato, che è tra l'altro molto simpatico, molto esplicativo di quello che ci ha appena detto. Abbiamo il palloncino sotto le arterie renali, no? Sì, abbiamo il palloncino che purtroppo sta per rompersi perché è veramente importante come dilatazione. È localizzato, per cui diciamo questo, il fatto che sia localizzato solo in quel punto è un fattore utile poi per quello che sarà l'intervento chirurgico, ma comunque sempre un aneurisma ad alto rischio di rottura. Vedete in questa immagine quello che vi dicevo prima, quanto si avvicina la orta, in questo caso alla colonna vertebrale, e può dare in questo caso dei sintomi proprio da compressione, addirittura può erodere le vertebre in alcuni casi e dare dei crolli vertebrali e dei dolori molto importanti. Senta, come si curano gli aneurismi della orta addominale? Intanto le chiedo, per quelli piccoli può essere sufficiente tenerli in osservazione? E per quanto tempo? Quelli piccoli si tengono in osservazione fino a che non arrivano a un diametro che sia poi quello in cui si deve intervenire. Rischio rottura. Rischio rottura, cioè a questo punto si parla dei 4,5 centimetri in poi, a quel punto bisogna comunque prevedere un intervento. Però quelli piccoli vanno comunque tenuti sotto controllo, controllando i fattori di rischio, per cui torniamo al discorso dell'ipertensione, del fumo, del colesterolo. I fattori di rischio sono quelli comuni a tutte le malattie vascolari, cardiache, aterosclerotica in generale. È fondamentale soprattutto il controllo dell'ipertensione, perché come abbiamo visto, aumentando la pressione all'interno della orta, aumenta la crescita dell'aneurismo. Un approccio farmacologico è possibile? Ultimamente è stato proposto l'utilizzo delle statine, perché la statina, essendo uno stabilizzatore di placca, è un farmaco che viene utilizzato, oltre che per abbassare il colesterolo, viene utilizzato anche per ridurre la degenerazione della parete arteriosa. Per cui sono degli studi in corso, qualcuno già convalidato, qualcun altro ancora no, per cui questi studi ci hanno fatto vedere che l'utilizzo delle statine può ridurre il rischio di aumento del diametro della orta. Per il resto, gli antipertensivi sono sicuramente utili, i beta-bloccanti che riducono anche la frequenza cardiaca, per cui riducono tutti gli stimoli all'aumento della dilatazione. Certo. Invece, quando è necessario operare? E soprattutto, come viene scelta la tecnica? Negli anni 2000, le tecniche scelte sono sempre quelle meno invasive possibili, ovviamente, perché abbiamo la possibilità di farlo e perché abbiamo tutti i materiali e tutte le tecniche a disposizione. Fino a circa 10-15 anni fa era previsto soltanto l'intervento chirurgico, adesso invece l'intervento chirurgico, per fortuna... L'intervento chirurgico, quello tradizionale, la chirurgia open. Sì, la chirurgia open tradizionale, come abbiamo detto, allora partiamo da una dilatazione di 4,5 centimetri. Questa è un'immagine di quella che la chirurgia è convenzionale. Vedete veramente una palla della orta all'interno dell'addome, spaventosa, sembra quasi la testa di un bambino che sta per uscire. Questo è un caso estremo? No, assolutamente no, non è assolutamente un caso estremo. Questo è un aneurisma di circa 7 centimetri di diametro che abbiamo operato qualche mese fa ed era realmente così la situazione. Ovviamente la chirurgia convenzionale è più cruenta di un altro tipo di approccio ed è una chirurgia che prevede un'anestesia generale, prevede una laparotomia, cioè un'incisione che va dallo sterno fino al pube, con conseguente rischio poi di laparocele successivo, prevede anche una convalescenza post-operatoria lunga perché il paziente si deve riprendere da questi interventi importanti, bisogna valutare la motilità intestinale, insomma è una chirurgia... Perdita di sangue importante, taglio di muscoli, apparato... Sì, nella chirurgia convenzionale noi chiediamo normalmente, preventivamente, 4 sacche di sangue per esempio perché la perdita è molto notevole. Considere che soltanto quando andiamo ad aprire l'aneurisma svuotiamo la orta di circa mezzo litro di sangue perché comunque proprio all'interno di questa palla c'è tutto questo sangue. Abbiamo... ecco, un'altra... no, questa è sembra la stessa, ecco, un'altra diapositiva? Questa è la protesi che viene utilizzata nella chirurgia convenzionale che va a sostituire l'aorta malata. In questa immagine vediamo quell'immagine giallastra in alto è l'interno della orta, l'interno dell'aneurisma, che ovviamente è degenerato, cioè non è un'arteria normale, è un, diciamo, uno strato di grasso all'interno dell'arteria che dà quel colorito giallastro. Viene aperto proprio l'aneurisma, cioè questo palloncino viene inciso e all'interno di questo aneurisma viene posizionato questo tubo in un materiale che si chiama dacron e che va a sostituire l'aorta originale. Per cui noi riproduciamo un'aorta normale con questo materiale protesico. Tecniche meno cruente, chirurgia mini-invasiva. Tecnica endovascolare, diceva, da una quindicina d'anni è molto più frequente e anche molto più utilizzata da voi specialisti. Allora, la tecnica endovascolare è molto più utilizzata, per fortuna, ed è anche preferita e preferibile sia dal paziente sia dal chirurgo. Perché per quanto riguarda il chirurgo, ovviamente un intervento che dura un'ora e mezza rispetto ad un intervento che dura quattro ore fa la differenza. Ma non è tanto quello il discorso, perché noi dobbiamo fare quello che serve poi in realtà. Il concetto è che il paziente preferisce la tecnica endovascolare, perché la tecnica endovascolare prevede una mini-incisione a livello inguinale, a volte nemmeno, perché con i nuovi device non c'è bisogno nemmeno dell'incisione chirurgica. La tecnica endovascolare prevede un'anestesia locale o spinale addirittura, non prevede l'anestesia generale. Consiste nel posizionare un'endoprotesi, e la stiamo vedendo in questo momento, all'interno dell'aneurisma della orta tramite un piccolo accesso inguinale, come se dovessimo fare un intervento anche in anestesia locale, possiamo farlo. A differenza della chirurgia tradizionale, in questo caso la protesi viene posizionata appunto normalmente dall'arteria femorale. Utilizziamo questi device che servono a portare proprio all'interno della orta questa che è chiamata endoprotesi. L'endoprotesi viene posizionata proprio nel punto in cui l'aneurisma si forma, cioè proprio in cui la orta comincia a dilatarsi, e poi viene rilasciata con un sistema automatico all'interno dell'arteria. Una volta posizionata l'endoprotesi nel punto giusto, viene pallonata, perché questa protesi deve aderire alle pareti della orta in modo da non delocalizzarsi, cioè da non muoversi successivamente. E poi viene posizionata un'altra gamba sempre di questa endoprotesi che forma una specie di pantaloncino all'interno della orta e riproduce esattamente l'anatomia di quella che era la orta originaria. Come vedete l'immagine del signore che gioca a tennis per farvi capire che la ripresa del post-operatorio è praticamente immediata. Ecco, questo è il materiale vero e proprio visto dal vivo, visto aperto, ed è una protesi formata da un'armatura metallica in nitinolo normalmente, rivestita da una maglia di PTFE, per esempio. Il PTFE sarebbe il Gore-Tex, quel materiale che si usa anche per l'abbigliamento. Qui si vede un altro piccolo schema del posizionamento di un'endoprotesi, come abbiamo visto precedentemente. La stessa cosa viene aperta con un automatismo nemmeno particolarmente complesso, diciamo così, dentro la orta. L'intervento ha una durata di circa un'ora, un'ora e mezza al massimo, diciamo così, può essere fatto con questi due piccoli taglietti. Alla fine possono rimanere due piccolissimi taglietti inguinali, a volte nemmeno due tagli si devono fare necessariamente, perché attualmente abbiamo delle device, delle endoprotesi ancora più moderne, che ci permettono di accedere dentro l'arteria femorale senza nemmeno fare incisioni chirurgiche. Per cui si capisce chiaramente quanto sia meno gravoso un intervento del genere rispetto alla chirurgia tradizionale. È un intervento definitivo? Nessun intervento sulla neurisma è definitivo, perché anche facendo l'intervento tradizionale dobbiamo utilizzare una protesi e la protesi potrebbe negli anni, ovviamente si parla di decenni, non si parla dell'immediato, potrebbe pian piano, pian piano dilatarsi come si è dilatata la orta all'origine, anche considerando il fatto che questa protesi si trova sempre all'interno di un'arteria che è fondamentalmente malata, per cui nel tempo potrebbe succedere. Però sono cose che succedono veramente a distanze lunghissime, sia per la chirurgia tradizionale che per l'endovascolare. La prognosi, la mortalità post-intervento, dottoressa? La mortalità post-intervento è molto differente quando si parla di chirurgia tradizionale o chirurgia endovascolare. In questa diapositiva si vede chiaramente la differenza, perché in grigio, le colonne in grigio sono quelle che riguardano la mortalità per l'intervento chirurgico tradizionale, in nero invece la mortalità per l'intervento chirurgico endovascolare. C'è una bella differenza. La differenza è notevole e soprattutto se guardate l'ultima colonna a destra, la mortalità nei pazienti che hanno più di 84 anni per il trattamento endovascolare è bassissimo, per quello chirurgico è altissimo, perché ovviamente il trattamento endovascolare è riservato ai pazienti ancora più anziani. Tempi di recupero di un paziente operato? Nel trattamento endovascolare il paziente viene dimesso dopo due giorni dall'intervento, per cui il recupero è praticamente immediato. Invece nel paziente chirurgico il recupero è molto più lungo per la cicatrice, per tutte le problematiche associate anche alla diambulazione, alla motilità intestinale rallentata. Nel paziente chirurgico ci vogliono almeno 15 giorni per il recupero. Come la chiudiamo questa trasmissione, dottoressa Dorazio? Che considerazioni finali si sente di fare? Ad esempio uno screening potrebbe essere consigliato oppure controlli con quale periodicità, da qual'età? Lo screening è fondamentale proprio per il motivo di cui stavamo parlando all'inizio, cioè del fatto che è una patologia molto spesso asintomatica. Perciò è fondamentale fare uno screening anche semplicemente con un'ecografia dell'addome, che è l'esame del gold standard all'inizio. quali erano i pazienti a rischio? Il maschio sopra i 65 anni, la donna sopra i 65 anni, pazienti fumatori, arteriopatici, pazienti con coronaropatie. Però diciamo che un'ecografia dell'aorta non si nega a nessuno fondamentalmente. Io indurrei tutti i pazienti al di sopra dei 60 anni a fare un'ecografia dell'aorta con particolare attenzione alla aorta addominale e sottorenale e soprattutto anche nei pazienti che hanno genitori che hanno avuto problemi con la aorta, qualcuno è deceduto. Perché potrebbe esserci familiarità. Perché la familiarità è anche un fattore molto importante. E potrebbe diventare uno screening obbligatorio, chissà. Potrebbero deciderlo. Noi abbiamo provato più volte a indurre la regione Abruzzo a proporre degli screening come quello per esempio che si va per il papillomavirus nella donna, per il colon nel maschio, per la prostra, tumore della mammella. Anche l'aneurisma dell'aorta avrebbe bisogno di un piano di screening perché purtroppo è ancora un po' sottovalutato dal punto di vista della politica sanitaria. Anche perché poi l'esame abbiamo visto è assolutamente tranquillissimo. Nessuna invasività. L'esame è assolutamente tranquillissimo, non c'è nessuna invasività e soprattutto si può fare in molti centri. Non ha radiazioni, un'ecografia che poi ci può aiutare d'altronda a guardare anche altri distretti perché un'ecografia dell'abdome guarda il colon, guarda la prostata, guarda l'utero nella donna, guarda, cioè voglio dire, è un esame che non dispiace a nessuno e si può fare in tutta serenità. Potrebbe venire fuori qualche altro malanno, qualche altro acciacco. Si spera di no, però intanto noi andiamo a guardare quello che ci interessa in questo momento. Grazie, grazie alla dottoressa Mirta Dorazio, responsabile della chirurgia vascolare Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Con lei abbiamo parlato dell'aneurisma della orta addominale. Grazie dottoressa, buon lavoro. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile. Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione. Grazie a voi delle spettatori, con voi naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana, stessi orari, ma ovviamente tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.